Sarebbe stato meglio forse non l'avessi fatto, che almeno si pareggiava probabilmente, a parte gli scherzi. Ha ragione lei a dire questo, se ha guardato le statistiche io non ci avevo fatto caso, però io dico cosa deve fare una squadra? Io parlo del secondo tempo, il primo tempo avete ragione, l'Atalanta era sbarazzina, ci ha creato problemi, non eravamo in palla, abbiamo sbagliato anche qualcosa, poi ci siamo corretti fra il primo e il secondo tempo. Io dico il primo tempo, ha avuto qualche palla gol anche l'Atalanta, ma l'abbiamo avuto anche noi, e quindi il risultato del primo tempo scomponiamo la partita, era in parità. Il secondo tempo io credo che quello che ha fatto l'Inter di più non possa fare, io ho guardato il tabellone all'ottavo, ho visto tre palle gol clamorose da parte nostra, davanti al portiere, abbiamo arrembato, abbiamo schiacciato l'Atalanta, fino a 10 minuti al termine su un fallo laterale in cui loro potevano fare gol, questa è stata l'unica occasione del secondo tempo, che hanno superato quasi la metà a campo. Io credo che più di quello che ha fatto la squadra dal punto di vista del gioco, delle palle gol, non può fare, bisogna solo fare gol. Si potevano fare due gol subito e a quel punto la partita si può riflettere su questo, si può riflettere, bisogna essere più tranquilli quando si arriva davanti al portiere o nell'ultima decisione. Questo l'ho già detto, questo è dove noi dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Per il resto, io parlo del secondo tempo, non ho da rimproverare nulla o quasi nulla, solo che magari il ragazzo che doveva marcare non ha marcato, da una palla di tre quarti può prendere il gol. In Serie A italiana sai che se la partita è in equilibrio può succedere un episodio, se è la giornata nera che prendi quattro pali, che alla prima o alla seconda occasione prendi gol, può succedere. Questo è quello che penso io di questa partita.